tirami su all'ananas senza uova decorato a mimosa in occasione della festa della donna benvenuti nel canale di tavola serena oggi andiamo a preparare insieme questo dolce davvero buonissimo iniziamo appunto dall'ananas per questa ricetta andrò a utilizzare un'intera scatoletta di ananas sciroppato di circa 560 grammi ho preso 6 fettine di ananas le ho inserite all'interno di un tegame ho aggiunto l'acqua e poi ho frullato col frullatore immersione per cercare di sminuzzare il più possibile l'ananas avremo comunque dei piccoli filetti in questa crema ma stanno bene comunque sono buoni si creerà una schiuma ma non preoccupatevi durante la cottura se ne andrà aggiungiamo l'amido di mais e iniziamo a far addensare la crema a fuoco medio quando otteniamo una crema di questa consistenza ci siamo assaggiamo perché nel mio caso ho voluto aggiungere anche due cucchiai di zucchero ma magari per voi va bene non zuccherata oppure invece preferite aggiungerne di più quindi assaggiatela poi decidete quanto zuccherarla mettiamo poi a raffreddare all'interno di un piatto coperta con pellicola a contatto possiamo anche preparare la crema la sera prima così da averla già pronta a questo punto prendiamo 500 ml di panna io ho utilizzato la panna vegetale che era già zuccherata voi scegliete che tipo di panna utilizzare deve essere freddissima per riuscire a montare quindi conservata nel frigorifero e magari anche qualche minuto nel freezer prima di montarla quando sarà ben montata andiamo a prendere la nostra crema all'ananas andiamo ad aggiungerla tutta all'interno della panna e poi l'amalgamiamo sempre con le fruste elettriche tutti gli ingredienti che ho utilizzato ritrovate ricapitolati sia durante la videoricetta sia sotto all'interno del box informazioni la crema a questo punto è pronta ora non ci resta che assemblare ho preso una pirofila e vi ho aggiunto gli savoiardi inzuppati nel succo dell'ananas conservato nella scatoletta quindi ho utilizzato anche il succo una volta che abbiamo inzuppato tutti i savoiardi possiamo utilizzare anche i pavesini se vogliamo e fatto uno strato uniforme andiamo a trasferire un primo strato della crema io ho fatto in tutto due strati quindi ho inserito metà crema qui e metà sopra in realtà non ho fatto proprio metà ne ho aggiunto un po meno tra i due strati e un po più nella parte sopra io vi consiglio di fare esattamente metà andiamo a fare un altro strato di savoiardi sempre inzuppati all'interno della bagna e poi terminiamo con l'ultimo strato di crema è un gusto davvero delicatissimo inoltre con questa crema non ho utilizzato mascarpone quindi è ancora più leggera se vogliamo possiamo decorare la superficie io ho scelto questa spatolina e ho fatto qualche decoro vi faccio vedere qualche decoro possibile in realtà poi ho aggiunto anche delle fette di ananas e poi dei biscotti tagliati quindi in realtà i decori più di tanto non si vedevano però vi ho dato qualche idea prendiamo i biscotti savoiardi andiamo a tagliarli a cubetti questo è un passaggio ovviamente opzionale se volete potete farlo altrimenti il tiramisù è già concluso così andiamo poi a inzuppare anche questi pezzettini di savoiardi all'interno della bagna e lasciamo riposare in frigorifero per almeno due ore il nostro tiramisù ed ecco pronto il nostro tiramisù all'ananas con un gusto davvero delicato io spero tanto che vi piaccia perché a noi è piaciuto tantissimo se vi piace questa ricetta lasciate un pollicino in su iscrivetevi al canale per non perdere i futuri contenuti qui vi lascio un'altra idea sempre per tiramisù e noi ci vediamo nel prossimo video ciao